L'ulteriore carico è arrivato questa sera destinato ai presidi sanitari, ventilatori che consentiranno l'allestimento di posti Covid, questo per una logica che è stata perseguita dal governo e che consentirà al popolo della Sicilia di poter essere assistito nel migliore dei modi, quindi dopo aver pensato ai dispositivi di protezione individuale adesso invece un viaggio, una fornitura interamente destinata a questa ulteriore tipologia. In uno a questo ci saranno anche dei tamponi, più di 100.000 tamponi che serviranno per il controllo dei cittadini e quindi per evitare la diffusione del contagio con strumenti di controllo efficaci. Questo perché si sta lavorando contemporaneamente su più fronti, il fronte dell'acquisizione appunto dei dispositivi, il fronte del controllo della diffusione del contagio e il rafforzamento della infrastrutturazione dei presidi sanitari.